Sono stato invitato e sono molto contento di essere qua perché in questo evento effettivamente la Yamaha è riuscita ad unire due passioni della mia vita che sono le moto e la musica, quindi non potevo mancare. Quindi vi ringrazio per avermi invitato, ho potuto approfondire alcuni aspetti dei prodotti Yamaha che forse non conoscevo o conoscevo solo così in modo superficiale e ora non mi resta che provare la moto e quindi ho concluso questa giornata, veramente mi sono sentito coccolato. Grazie.